Cosa fate? Ci stiamo allestendo per la ricerca col sistema RECO SAR, quindi elicottero a terra, l'antenna viene collegata al gancio baricentrico dell'elicottero e poi verrà sollevata, verranno fatti dei test iniziali prima di cominciare a effettuare la ricerca, dopodiché si parte con la ricerca nelle zone prioritarie di ricerca. Può essere consigliabile a tutti avere una piastrina RECO? È consigliabile da gestire, chiaramente è particolarmente delicata la questione per i sopporitori perché nel momento in cui noi cerchiamo col sistema RECO tutte le piastrine che ci sono in giro vengono captate dall'antenna, di conseguenza il personale a terra va gestito. RECO 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 RECO